Da lunedì 25 giugno non sarà più possibile accedere agli uffici tributari di Corso Arnaldo Lucci senza prenotazione. Sarà attivo infatti da venerdì 15 sul sito del Comune l'innovativo sistema Elimina Code, utilizzabile online da tutti i cittadini. Uno strumento che consentirà di fissare un appuntamento evitando lunghe code agli sportelli e dando la possibilità agli operatori di conoscere in anticipo la situazione dei contribuenti per elaborare pratiche o recuperare documenti. La prenotazione è obbligatoria e si effettua collegandosi al sito www.comune.napoli.it registrandosi ai servizi online nella sezione accedi ai servizi e cliccando su prenotazione ufficio tributi. A quel punto si dovrà selezionare il servizio per cui si richiede appuntamento e scegliere una data ed una fascia oraria tra quelle disponibili. Gli utenti registrati informati tempestivamente anche di eventuali variazioni o chiusure anticipate degli uffici possono effettuare al massimo due prenotazioni nello stesso mese. È possibile effettuare la prenotazione online anche recandosi presso gli uffici di Corso Lucci dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.